Allora Fisch, un ritorno come si deve? Tanta corsa, il gol, le botte? Direi che ci si inanno. No, diciamo io personalmente mi sento di nuovo bene. Non è facile dopo dieci giorni di infortunio ritrovare subito la condizione, però adesso sto abbastanza bene e penso che si è visto. Ieri ti abbiamo visto andare a recuperare palla praticamente sulla linea dei tuoi difensori, no? È cambiato qualche cosa con il cambio dell'allenatore anche nel ruolo e soprattutto in quello che ti viene chiesto in campo? No, diciamo il mister ci chiede soprattutto noi esterni tanto sacrificio e Boniberti e Mares negli ultimi partiti l'hanno fatto veramente bene. Io ho cercato di fare quello che mi ha detto. Mi ha detto devo entrare, devo correre su e giù per la fascia e chiudere la partita. Dieci punti in quattro partite, una squadra che è in salute, che vince, che corre tanto. Direi che da questo punto di vista c'è da essere fiduciosi per il futuro. Sì, diciamo abbiamo preso un po' di continuità e anche e soprattutto personalmente ci fa anche molto bene trovare risultati, però noi non dobbiamo molare niente, continuare con questo spirito e poi ci tolleriamo delle grandi soluzioni.